Salve amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma La Tattica. Oggi qui alla Tattica abbiamo un ambasciatore, l'ambasciatore del canto italiano e napoletano. Diamo il benvenuto al tenore Giuseppe Gambi. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao a tutti, buona domenica a tutti gli amici di Tattica. È un piacere per me essere qua. Un giorno di festa e siamo contenti di fare questa cosa bella per tutti e di urlare a tutti anche un po' di amore e di speranza. Quindi sono qua per voi. Facciamo cose belle. Giuseppe, con noi abbiamo Rebecca Comondo. Ciao Rebecca. Ciao a tutti. Ciao Giuseppe. Martina Medesati. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. E Vittoria Subaeva. Ciao Vittoria. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti, auguro a tutti voi partecipanti a questa diretta, auguri di buone palme a tutti voi e alle vostre famiglie innanzitutto. Grazie, ricambiamo. È sempre un piacere riuscire a scambiarci questi auguri. Anche in una situazione un po', se vogliamo, drammatica, però la positività noi ce l'abbiamo e siamo ottimisti. Giuseppe, come stai attraversando o trascorrendo queste giornate di quarantena? Ma io diciamo che mi sto dedicando alla creazione della musica perché fondamentalmente noi siamo comunque artisti e gli artisti in questa fase così delicata hanno il compito, se vogliamo, di essere, come dire, un grido di speranza, avere una parola di conforto per le persone che comunque veramente stanno veramente male. Perché io personalmente sono 25 giorni che non esco di casa e nonostante, ripeto, sono in casa, io posso capire che ci sono persone che veramente non riescono a stare in casa. Allora io nel mio piccolo cerco di fare compagnia attraverso dirette, attraverso messaggi, canzoni, ed è una bella cosa perché sto scoprendo che comunque la gente ha molto bisogno di questo. Quindi io questo è quello che sto facendo. Sto dedicando molto a loro e poco a me stesso, devo dire. Molto poco a me stesso e più agli altri. Quindi vabbè, andiamo avanti. Quando ti manca il pubblico, Giuseppe? Ma il pubblico mi manca tantissimo perché io sono abituato a cantare sempre, quasi una volta a settimana io canto sempre, tra concerti, ospitate e quant'altro. Quindi fondamentalmente per me stare senza il pubblico è stare senza ossigeno. Però capisco anche che questo è un momento particolare e il mio compito, ripeto, è una missione nel far star bene il pubblico. E quindi a distanza cerco naturalmente il mio pubblico che non è ancora grandissimo perché io comunque viaggio molto e quindi viaggiando molto ecco le persone che si ricordano delle mie performance mi contattano sulle mie pagine social e quindi io cerco di alletare attraverso le mie pagine social quelli che possono essere un po' anche le loro giornate e i loro momenti. E così è che, ripeto, stiamo affrontando questi giorni di intensa, se vogliamo, non proprio sofferenza, però giorni comunque non facili. Giuseppe, senti, tu lo scorso anno hai festeggiato i dieci anni di carriera sulla piazza in Porto Tessana. Diciamo che io ci sono ancora tuttora e mi auguro che le mie attività artistiche riprendano più presto perché quest'anno continuano i dieci anni e io sto ancora in mezzo a cose belle. Mi auguro veramente che questa cosa possa passare il più presto possibile perché poi ci sono tante cose da fare. Per me i dieci anni è un traguardo importantissimo perché mi porta a girare nel mondo, mi porta a conoscere nuove comunità italiane perché ho scritto diverse canzoni che mi hanno comunque portato in giro, insomma una storia la mia abbastanza fatta sicuramente di un percorso di grande gavetta però anche di bella soddisfazione. Sì appunto, stavo dicendo che hai festeggiato i dieci anni della tua carriera su una piazza importante e prestigiosa la scorsa estate in piazza Umberto I a Capri. e la tua carriera è iniziata nel 2009 a Venezia a bordo della MSC Poesia, poi è proseguita la tua esperienza sulla sinfonia. Quanto è stato importante questo passaggio a bordo di un dinamico così importante, di una flotta così importante e di affrontarmi anche con personaggi del mondo dello spettacolo? Ma diciamo che è stato l'inizio di tutto perché a me è il piacere e l'onore di potermi inizialmente esibire come lavoro all'interno di flotte, all'interno di navi così belle come la della MSC per me è stato un grande inizio, infatti ricordo che la prima serata che feci il direttore era un po' stupito della mia giovane età perché non si era mai visto un tenore così giovane, di solito ecco erano già tutti affermati, io ero proprio all'inizio, ero uscito dal conservatorio e ero indeciso se passare all'opera lirica oppure se iniziare a fare un discorso discografico e mi proposero questa cosa, dissi perché non fai questa esperienza sicuramente ti piacerà, a te che sei così come dire vicino al pubblico perché a me piace cantare sempre con il pubblico e quindi stare molto a contatto e quindi fondamentalmente accettare questa cosa, la stavo dicendo quindi per me ecco andare su una nave era una grande emozione, infatti il direttore era stupito della mia giovane età e quindi mi disse ma lei se la sente veramente questa sera di cantare davanti a 3.000 persone e dissi guardi mi faccia, mi metta alla prova, insomma io sono un buon napoletano, mi piacciono le sfide, disse va bene, va bene, le faccia, però le avviso insomma non è una cosa facile, vabbè vediamo che succede, insomma io ricordo quella sera una delle più belle serie della mia carriera perché ricordo che quelle 3.000 persone si alzarono 3 volte all'impiedi, cosa che sulle navi era successo diciamo poche volte e quindi da lì incominciarono a capire insomma ecco il mio talento se lo vogliamo dire insomma ecco come artista e questo mi ha gratificato molto nel tempo perché poi ho imparato a conoscere tante etnie di pubblico che veniva ogni settimana e quindi ho imparato diversi repertori ma soprattutto ho imparato il gusto del pubblico e grazie al gusto del pubblico poi quando sono uscito dalle navi da crociera e ho avuto il piacere di entrare ai raccomandati insieme a Marcella Bella allora lì poi ecco c'è stato un po' il mio inizio come personaggio insomma perché vinsi i raccomandati fu una cosa molto bella e quindi da lì piano piano insomma ecco mi sono fatto conoscere piano piano insomma però le navi bellissime esperienze Giuseppe ho una prima domanda da parte di Martina che ti vuole fare una domanda Volevo sapere come è nata la tua passione per la musica e quali sono i tuoi programmi soprattutto in questo periodo che probabilmente a causa del virus saranno cambiati un po' i tuoi progetti e tutto quanto ma io diciamo se lo vogliamo dire canto da quando sono nato avevo due anni già cantavo mi dicevano che nella culla già facevo qualche diciamo qualche gito di canto ma si dice per me è stata già lì una cosa bella importante che mi ha avvicinato alla musica e poi avevo quattro anni mi facevano salire sopra la sedia di casa ai compleanni e canticchiavo sempre cantavo sempre ho cantato da quando ero piccolo insomma il canto è un po' tutta la mia vita abbraccia tutta la mia vita perché ho sempre fatto solo questo nella vita e non sono mai riuscito a fare nessun altro lavoro quindi cinque anni ho cantato sette anni lo zecchino d'oro arrivai alle fasi regionali della mia città poi ho fatto un coro e ho girato già mezzo mondo a 14 anni ero all'interno di questo coro siamo stati a Strasburgo in Germania in tantissime chiese come ho cantato infatti la mia voce a 13 anni già si era un po' stancata perché era una voce bianca e quindi andava un attimo ripresa e così poi ho iniziato a studiare a 16 anni la lirica e piano piano è cominciato a rimettere la voce in piedi e poi mi sono ripeto messo a studiare tanto fino ad entrare al conservatorio e a creare insomma ecco tutti quelli che sono stati passo dopo passo i miei piccoli passi. Giuseppe c'è un'altra domanda da parte di Rebecca. Mi ascolto. Sì dunque Giuseppe io volevo chiederti com'è cambiata la tua vita dopo aver acquisito così tante notorietà? Diciamo che io sono molto severo con me stesso io ringrazio l'Italia perché l'Italia è la mia patria e la patria del bel canto è la patria dell'arte ma sicuramente la mia notorietà la vedo ancora da realizzare perché sto cercando di realizzare qualcosa di bello però ringraziando il punto di che sono sulla buona strada perché a farmi compagnia nel mio genere musicale perché a me mi definiscono il tenore pop ambasciatore del bel canto italiano e napoletano nel mondo perché ho scritto una canzone dedicata a tutti gli italiani che vivono all'estero voi pensate che sono circa 80 milioni e io ho avuto il piacere di cantare questa bella canzone che è stata poi firmata da diversi importanti esponenti del mondo se vogliamo anche dell'UNESCO e in questa operazione io ho fatto conoscere la mia arte la sto facendo conoscere ancora dottora sono ancora all'inizio però quello che ripeto conta per me è lavorare ogni giorno per migliorare per fare sempre bene e soprattutto cercare di fare le cose sempre con una grande passione e con il cuore quella per me la prima cosa poi si arriva il messaggio siamo sempre contenti certo grazie io prima di proseguire sull'intervista avrei il piacere di ascoltare il primo tuo brano questo è una cosa molto bella e questa è una bella canzone però naturalmente parliamo anche della storia di questa canzone vi racconto un po di cose belle perfetto ascoltiamo il brano va bene grazie mille vorrei dedicare una canzone a te che sento dentro di me musica e parole questa è l'armonia donna dolcetta dolce pura tu sei dona tu sei lil' cos'è speciale compagna fanciulla ycquerlliera donna sai aspettare il juo nel sogd stars c'è mo Il mondo più bello che c'è Sei un raggio di luce L'amore che porti con te Donna, sei amica Sei madre e regina Tu moscheri fragilità Donna, tu sai aspettare Il tuo giorno viore Donna che ricerche un po' d'amore Per guarire e rinascere Mani delicate come fantasia Mai riduce alla tua libertà Uomini duri che lasciano segni incisi nel cuore Donna, tu sai aspettare Il tuo giorno migliore Tu sei il sole che nasce Nel mondo più bello che c'è Sei un raggio di luce L'amore che porti con te Donna, sei amica Sei madre e regina Tu moscheri fragilità Donna, tu sai aspettare Il tuo giorno migliore Sei un raggio di luce Tu sei il sole che nasce Nel mondo più bello che c'è Sei un raggio di luce E vita che crescere Donna, sei amica Sei madre e regina Tu moscheri fragilità Donna, tu sai aspettare Il tuo giorno migliore Dona, tu sai aspettare Il tuo giorno migliore Donna, il tuo giorno migliore Giuseppe, il brano è stato veramente molto ma molto bello E prima di procedere sull'intervista c'è Martina che ti vuole porre una domanda Va bene Ecco, abbiamo appena sentito la tua canzone Il tuo giorno migliore E io vorrei sapere Qual è il giorno migliore di Giuseppe Gambi? Qual è stato? Sono molto critico Credo che ancora debba arrivare Ci sono stati tanti giorni belli come tanti giorni non belli Credo che il giorno migliore ancora debba arrivare Sicuramente ogni giorno ha il suo valore Però io ripeto, essendo molto perfezionista Credo che ancora debba arrivare Però speriamo che arriverà Come dire, l'amore vincerà E quindi anche arriverà anche il giorno migliore Certo Giuseppe, raccontaci Tu hai detto che ci volevi raccontare qualche particolare di questa canzone E com'è nato l'idea di fare questa canzone qui? Sicuramente questa è una canzone a cui tengo molto Perché è una mia prima creatura Che l'ho composta da pochi mesi E mi auguro insomma che possa diventare di tutti Perché è un omaggio alle donne Io sono sempre stato vicino al mondo femminile Nel mio piccolo ho sempre cantato per le donne Fin da quando ero piccolo Anche quando stavo alle medie Facevo le dediche alle mie compagne Pensate, io ho fatto una scuola Tutta diciamo al femminile Nel senso che cinque anni E nei superiori io ero l'unico maschio Ed erano trenta donne Mi sono sempre stato Pieno di donne Ho avuto sempre belle ragazze Via discorrendo Devo dire l'ombidamento sotto questo aspetto Poi vabbè adesso è un po' cambiata la storia Perché non lo so perché Ma è un po' cambiata La vita è fatta così Adesso mi trovo Tutti circondati Diversamente Però la cosa importante È cantare col cuore Quindi io ci tenevo a fare un omaggio alle donne Per me le donne rappresentano Un grande valore della vita Un motore Un motore del mondo E quindi ho voluto creare questa canzone Per rappresentare Il loro giorno migliore Ma attraverso la celebrazione Di quello che sono i valori importanti della donna Perché la donna è la forza È la forza motrice Ripeto del mondo Quindi ho voluto molto sottolineare L'aspetto della forza della donna È che la donna sa aspettare il suo giorno migliore Perché che cosa sarebbe il mondo senza una donna E quindi ecco perché nasce questa canzone E vi auguro che possa diventare conosciuta Come più o meno sta succedendo Insomma che tanti la cantano Tanti amici ogni tanto mi mandano Perché sta pure su tutte le piattaforme digitali Quindi comunque viene vista Viene scaricata Insomma eravamo alle prese con un grande video Che avremmo dovuto fare a marzo Proprio per la festa della donna Poi purtroppo questa brutta avventura Che ci ha colpito un po' tutti Non ha permesso tutto ciò Ma lo rifaremo assolutamente Appena tutto ritornerà alla normalità Giuseppe Nel 2015 è stata incisa appunto la canzone Italia Patria Nel 2015 è stato un anno importante Perché grazie a questa canzone Mi sono fatto conoscere all'estero E ho fatto molti viaggi Attraverso molte comunità È un'idea che è nata attraverso me E una giornalista della Rai Che saluto Riziana Grassi Con la quale Eravamo sotto al Pantheon A chiacchierare E siccome lei era fondatrice Del dizionario degli immigrati In tutto il mondo Mi disse Ma perché non facciamo una canzone Dedicata a tutti gli italiani Che vivono all'estero E mi disse Qual è il problema E facciamo questa canzone E così almeno Daremo un omaggio A loro Perché ricordano La loro patria Perché la patria È una cosa importantissima Le origini delle persone E così mi sono messo di pugno A scrivere in un paio di notti E ho tirato fuori questa canzone Che devo dire Sta piacendo molto nel mondo Ed è un bellissimo biglietto Da visita Anche per l'Italia Per me che poi Ecco sono stato nominato In maniera Come dire Anche un po' Se vogliamo Per il momento Amichevole Come buon ambasciatore Però io mi sento ambasciatore Perché Quando faccio i miei concerti Comunque indosso Indosso sempre l'etichetta italiana Canto l'inno di Mamelia I concerti Quindi ci tengo a portare Questo nome Perché poi Io sono orgoglioso E onorato Di essere italiano Perché l'Italia È una delle terre più belle Al mondo E lo sta dimostrando Anche questa avventura Che sta dando Veramente Ecco dei grandissimi valori A quelli che sono Purtroppo I momenti drammatici Però l'Italia C'è E sta facendo Un bel lavoro E quindi Dobbiamo essere fiduciosi Che presto ne usciremo E forse Ritorneremo anche più forti Di prima Perché riscopriremo Dei valori Che abbiamo un attimo Forse accantonato Ebbene Giuseppe Ci ascoltiamo Anche questo brano Va bene Saluto a tutti gli italiani Che ci ascoltano Che vivono all'estero Viva l'Italia Guardo il mondo intorno a me Ricordi sparsi Con storia dentro sé Il suono della nave Il volto dei miei cari In lontananza Me ne andai Siamo noi italiani Nel mondo Mi chieda tre parole Coraggio, speranza, orgoglio In lontananza, orgoglio Che ci ascoltano in cui è Lontananza, orgoglio In lontananza, orgoglio In lontananza, orgoglio In lontananza, orgoglio Lontananza, orgoglio Tutti uniti qui vorrei Con mano intorno a noi Mai più dividerci Il sole sorcerà Il domani brillerà Un italiano canterà Siamo noi italiani Nel mondo Uniti da tre parole Coraggio, speranza, orgoglio In lontananza, orgoglio In lontananza, orgoglio Sogni e libertà Di mai italiani Nel mondo Un canto in cor Italia setesta Conquista libertà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, Giuseppe, io so che nell'anno 2018 sei stato in Russia e proprio nella mia città natale, a San Pietroburgo. Ci puoi raccontare un po' questa tua esperienza perché noi in Russia apprezziamo molto il canto classico italiano e io volevo sapere, è vero che sei stato molto apprezzato e appunto la mia domanda è qual è stata questa esperienza, come ci sei trovato, che impressione ti ha fatto la Russia e in particolare la mia città a San Pietroburgo? Beh, Vittoria, che dire, sono molto contento di questa cosa perché io ho fatto la mia piccola apparizione a San Pietroburgo. Io sono stato a cantare per la comunità italiana che vive lì e insieme a me c'è stato un mio amico che insieme abbiamo fatto un gruppo di musica italiana e napoletana e unendo generi anche, se vogliamo, un po' diversi perché questo amico mio è anche la colonna sonora di una delle soap oper più famose del mondo. Lui si chiama Carlo Maifamularo e insieme abbiamo fatto questo gruppo che si chiama Lecce Singer e con questo progetto abbiamo unito quindi la mia possibilità di cantare per gli italiani all'estero con Italia Patria Mia che è l'indo degli italiani, con la sua canzone che è quella di Un posto al sole che è la soap opera italiana più vista all'estero. Quindi abbiamo unito queste forze e abbiamo creato questa cosa molto simpatica che poi è un diverso, come dire, genere musicale, però mi è piaciuto molto al pubblico e lì siamo stati a fare proprio il nostro spettacolo dei Two Singer, è stato molto apprezzato dalla comunità, siamo stati all'Hotel Astoria a fare questa cosa molto molto bella fu e ricordo una cosa molto molto bella, affetto tantissimo, tanti fan, tantissimi veramente gentilissimi. L'unica cosa purtroppo che non ricordo piacevolmente fu che sono stato in un periodo che era a febbraio e quindi c'erano 40 metri di neve si può dire, quindi io non mettevo neanche il naso fuori dall'albergo perché avevo troppo freddo, perché sono un po' freddoloso, anche per la voce. E' qui dalla fine peccato che mi è dispiaciuto di non poter essere stato, come dire, un buon turista per San Pietroburgo, ma so che ci ritornerò perché stanno lavorando per farmi ci ritornare, quindi per me sarà solo un grande piacere poi ritornare, anche perché io ho delle belle sorprese da poter, come dire, creare anche in questo periodo drammatico, sto cercando di pensare positivo. Bene, speriamo che ci ritorni la prossima volta, allora, durante le notte bianche, quindi più verso l'estate, a maggio, giugno a San Pietroburgo, un periodo bellissimo, quindi ci aspettiamo. Sarà un piacere, allora, per me invitarti al prossimo concetto, quindi molto, molto piacere, grazie, sarà una bella domanda. Guarda, Giuseppe, Martina ha un particolare che ti vuole dire, perché abbiamo scoperto qualcosa davvero molto importante. Aiuto, vediamo. Allora, noi abbiamo uno scoop. Sappiamo che hai festeggiato il compleanno di un grande artista, e sappiamo che c'è anche un video di te e questo grande artista, e che tu hai brindato per il compleanno di Albano, subito dopo un concerto. Ah, grande Albano. Com'è stata questa serata, questa conoscenza? Ma come avete avuto questo video, che non c'era nessuno? Abbiamo le nostre fonti. Albano mi tira le orecchie e disse, non lo dire a nessuno, e noi stavamo così bello, perché lui praticamente venne a Napoli a sentire il concerto del grande Bocelli, dove anche io fui invitato dal comune di Napoli, c'è una cosa molto, molto bella. E a ritorno andammo a mangiare, diciamo, nello stesso ristorante, solo che non sapevo che praticamente lui poi mi disse, visto che dovevo andare in albergo, ci fu un problema di sapere, stiamo un altro po' qua, magari in albergo vado dopo. E con me c'era anche il mio amico Francesco Vidoni, insomma, il quale mi segue anche per le mie avventure televisive, che saluto. Con Francesco abbiamo fatto pure una bella canzone, che poi dopo vi dico. E questa cosa molto bella, fu simpatica, perché Albano disse, vuoi me, non lo dire a nessuno, perché a mezzanotte è il mio compleanno. Dissima, veramente. E allora ora mi alzo subito e ti canto tanti auguri a te da gran tenore. E così mi alzai in questo ristorante e gli cantai tanti auguri e brindavamo, fu una cosa bella. Tutti quanti che ripresero con i telefoni, ma ti sto ancora aspettando che mi mandano quel video, i proprietari del telefono, che fu una cosa molto, molto bella. E poi sono quelle cose belle anche perché Albano è una persona veramente con un gran cuore, è una persona che apprezza i giovani, conosce la mia storia, perché io con lui l'ho visto e sia raccomandati, che ho avuto anche l'onore e il piacere di condividere una bellissima serata, importantissima, su una delle navi da crociera. Perché poi voi non so se avete visto nel mio curriculum, ma c'è assolutamente un momento in cui io sono stato molto valorizzato per il mio lavoro sulle navi da crociera, perché il carissimo amico del direttore Alfonso Signorini mi ha scelto tra tanti artisti per poter rappresentare la musica italiana su una crociera che si chiamava Sorrisi e Canzoni. Io ero ancora un giovane tenore, ero appena sceso dalla navi da crociera perché per scelta abbandonai il lavoro per cercare appunto di dedicarmi alla televisione perché capì che c'erano dei buoni numeri sui quali poter puntare. E quindi alla fine Alfonso mi premiò e gli disse vieni a fare questa crociera Sorrisi e Canzoni, ho avuto il piacere di condividere per una settimana un palco insieme al Grande Albano, Rieta Berti, Alisa, Fabrizio Moro e tanti altri, insomma fu veramente un'esperienza di Vene Grandi, Solene Marinelli, Cristiano Malgioglio, ma veramente c'erano tanti il mago Casanova. Ho avuto un momento molto bello della mia, mio inizio carriera, ero sul Sorrisi e Canzoni molti volte a settimana, una cosa molto molto bella. E poi Albano quando lo incontrai fu tanto affettuoso con me e poi l'ho sempre rivisto, l'ho sempre rivisto a Roma, ai grandi concerti, sono stato premiato in una serata dove c'era anche lui, poi ho cantato al Tennis and Friends l'anno scorso al Foro Italico e c'era anche lui e lui mi sentì cantare l'igno di Mameli, fu di base molto contento, gli disse stai diventando un buon ambasciatore, quindi c'è nata una bella simpatia. Chissà se si onorerà un giorno anche di un duet, se ne parla, insomma speriamo, ma già poter cantare le sue canzoni per me è oggetto di grande orgoglio, perché sicuramente nel mio repertorio quando sarò in Russia, sicuramente anche l'anno scorso ricordo cantai nel sole la sua canzone in Russia e fu molto apprezzata perché Albano è molto conosciuto in Russia. Quindi questo per me è stato un buon oggetto e siccome, ripeto, c'è una bella amicizia tra di noi, sono certo che lui avrà piacere che io continuo il suo nome, la sua carriera con le sue belle canzoni. Quindi sono qua pronto anche perché noi siamo gli artisti del domani, se ci crediamo dobbiamo scendere in campo e dimostrare che abbiamo gli elementi per poterlo fare. Io canto perché solo questo so fare, ripeto, quindi cerco di farlo bene e cerco di dare dei messaggi alla gente che mi auguro, insomma, che apprezzerà sempre. Certo, grazie. Noi ci vediamo questo video e lo mandiamo in onda. Addirittura, ma là stavamo guidando, stavamo guidando in onda. E che ecciterete. Tanti saluti al grande Albano quando ci vedrà. Io lo mandiamo. E qui stiamo con un amico, stiamo con un amico. E chi è questa vita? E chi è? Sì, bello Albano, siamo meglio, sì. Sì, 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 me meglio, sì, confuso. Non ti preoccupare, che dove sta i cambi? Non succede niente. Albano. Grande Albano, viva Albano, viva Albano. Tra poco è il suo compleanno qui a Napoli a salutare il grande Bocelli, allo spettacolo di Bolle. Grande Albano, ciao. Giuseppe, il video l'abbiamo visto, abbiamo visto come fate molto in sintonia con Albano e che avete festeggiato il nostro compleanno. Ti voglio fare una domanda. Allora, nel settimo anno dalla scomparsa del maestro Luciano Pavarotti, la fondazione che prende il suo nome ti ha inervitato a questo evento e hai naturalmente fatto un concerto con altri temori. Quanto è stato importante una figura come Luciano Pavarotti per la tua crescita come tenore? Io penso che dal punto di vista, se vogliamo, della crescita, per me è stato un grandissimo onore essere stato scelto tra quei sette tenori di tutt'Italia che comunque hanno rappresentato il grande maestro in una giornata memorabile dove c'erano 40.000 persone, un'orchestra di 100 elementi. Insomma, io ho avuto veramente una grandissima soddisfazione personale. Ecco, quello è stato sicuramente una delle cose più belle che ho fatto nella mia carriera e mi ha dato un grande sapere. Ma più e soprattutto il grande maestro Pavarotti, insomma, un mito per me fin da piccolo che ho sempre seguito, è stato quello che mi ha avvicinato alla lirica. E quindi io veramente, quando sono stato scelto per cantare, non potevo crederci, per me è stata veramente un'emozione grande. Mi ha spinto sicuramente nel fare meglio, anche perché ero ancora piccolo, la voce non era ancora matura qualche anno fa, perché poi comunque noi tenori una voce comincia ad essere matura intorno ai 30 anni e quindi alla fine per me è stata veramente una bella esperienza che mi ha fatto capire tante cose. E oggi ho quella contapevolezza di potermi, come dire, mettere in campo per poter dimostrare le mie capacità artistiche. E' importante anche, c'è un tempo dove uno dice, ok, adesso posso uscire e far vedere quello che so fare anche io. E' importante anche questo, insomma, in un artista. E quell'esperienza per me è stata veramente un'esperienza importantissima. Tra l'altro, in prima fila c'era il carissimo amico Alfonso Sigliorini, il quale è rimasto molto contento, e tanti altri personaggi della televisione. Emili Carnucci ci presentò. Fu una cosa molto, molto bella. Mi piace un duetto anche con Raffaele Gualazzi. Fu una serata veramente molto, molto bella. Serata da ricordare, sì. Bellissimi momenti, bellissimi momenti. Stavo dicendo appunto che abbiamo in onda il secondo brano di Giuseppe, l'amore vincerà. Oh, ecco, l'amore vincerà. Viva l'amore vincerà. Il mare oggi non mi dice niente, non mi ispira i sentimenti, ma i colori sono andati via. Ti seguo sul tuo nuovo cammino, in un'altra direzione, da questa vita mia. E io te sono l'uvola col vento, che mi spinge in questo cielo. Non riesco a fermarmi, e poi lo so, che il mondo gira tutto il campo, non riesco a darmi pace, ma che tu non mi sei qui. Ti aspetterò. Non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, e l'amore tornerà, e un altro bacio vedrà il sole. L'amore tornerà, e l'amore ci sarà, e mi starà vicino come un angelo. L'amore vincerà, e l'amore mi darà, e mi accompagnerà per sempre. In questa vita mia, approccio l'idea, che tornerà l'amore dentro l'anima, dentro me. E scriverò le pagine di te, ricordi un passato, che non posso ricordare mai. Profumi intensi, viste di orizzonti, di paesi assai distanti, qua distanti ora sei tu. Aspetterò. Non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, e un altro bacio vedrà il sole. L'amore vincerà, l'amore ci sarà, e mi starà vicino come un angelo. L'amore tornerà, e l'amore mi darà, e mi accompagnerà per sempre. In questa vita mia, abbraccio l'idea, che tornerà l'amore dentro. E così guarderò avanti ancora, e così mi farò forza ancora. E una luce sarà il mio destino, non mi stancherò mai. L'amore vincerà, l'amore tornerà, e mi starà vicino come un angelo. Oh, 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 oh. In questa vita mia, abbraccio l'idea, che tornerà l'amore, l'amore vincerà. Ebbene abbiamo sentito questo meraviglioso e stupendo brano con una grande interpretazione da parte di Giuseppe e baserei la domanda a Rebecca, vai Rebecca Certo Giuseppe innanzitutto vorrei farti complimenti per questo bellissimo brano e poi vorrei chiederti, è dedicato a qualcuno in particolare oppure è solamente un tuo punto di vista sull'amore? E soprattutto, l'amore vincerà? Guarda, ti dico una frase che dice sempre il mio amico Francesco Vidoni con il quale abbiamo scritto questa bella canzone e anche un po' la sua idea, questa idea di vincere perché l'amore trionfa sempre, ricorda, l'amore vincerà perché l'amore vince sempre e quindi anche in questo momento drammatico io lo continuo a dire come messaggio io resto a casa e andrà tutto bene perché l'amore vincerà, l'amore vince sempre un bellissimo brano che ci ha dato belle soddisfazioni, uno stile pop lirico che è quello con il quale io mi ispiro oggi nei miei concerti con la mia nuova band se vogliamo, sono questo girando molto con questo genere musicale e con la canzone napoletana, però devo dire che questa canzone dà molte soddisfazioni grazie Renetta grazie a te Giuseppe, tu hai partecipato insieme a tutti, a grandi artisti a il brano di Davide Di Marinis io resto a casa e abbiamo chiesto anche la tua interpretazione fuori a Marconi a cantare quindi a trasmettere alla gente di restare a casa e di evitare naturalmente di andare in giro perché c'è un pericolo di contagio e quindi di trasmissione di questo virus sì, assolutamente sì quanto è importante partecipare a iniziative così importanti che poi quello che l'ha ricavato dalle vendite, da tutto quello che ci sarà ci sarà l'acquisto di una di una adesso non mi ricordo il termine è un mentiratore, è un mentiratore, mi diceva Davide un mentiratore un mentiratore e per un pediatrico e è patrocinato anche con la nazionale dei cantanti quanto è importante partecipare a queste iniziative? diciamo che io sono stato molto contento che lui mi abbia scelto anche perché con Davide abbiamo fatto una bella serata in quest'estate dove io sono stato ospite al Minturno Film Festival insieme a tutti i grandi artisti, con il grande Pasquale Mammaro che saluto e devo dire è stata una bellissima cosa anche per festeggiare i miei dieci anni loro mi hanno invitato, io ho cantato L'amore vincerà quindi sono stati molto molto contenti e la cosa bella è che lì con Davide si parlava di fare una cosa sicuramente nel futuro insieme e quindi è nata questa occasione però è anche vero che comunque Davide si è accorto di lui perché io la settimana scorsa ho lanciato un glido di speranza sempre da sopra al balcone con il mio saluto a tutti gli italiani a non mollare e all'alba vinceremo ho cantato Nessun Dorm ma l'alba vincerò sul balcone il video è diventato subito virale insomma per me questa è un'altra bella soddisfazione del momento che mi sta dando gioia che la mia voce sta arrivando in tutti gli stati del mondo addirittura stamattina mi hanno scritto anche dal Vietnam cioè veramente sta facendo un grande giro vi invito a guardare questo video che è molto carino è umile, semplice a volte le cose semplici sono quelle che funzionano di più e sta arrivando veramente al cuore di tutti gli italiani che vivono all'estero e non solo e sta avendo veramente un grande grande effetto e grazie a questa cosa Davide si è accorto di me mi ha chiamato attraverso Francesco e abbiamo fatto questa cosa simpatica di dire perché non mi fai sentire la tua versione di io resto a casa e così ho fatto io resto a casa restaci anche tu e andrà tutto bene e così poi la stiamo facendo sentire tanti amici e ci sentiamo anche per questa attuale internazione io resto a casa restaci anche tu io resto a casa restaci anche tu e andrà bene va tutto bene che tutto passa se stiamo insieme tutto andrà bene Giuseppe abbiamo sentito anche io resto a casa e spero e invitiamo naturalmente tutti a restare a casa finché Giuseppe ci ha detto ah eccoci invitiamo a stare a casa tutti indistintamente e aspettare che il governo e le istituzioni ci dicono di tornare alla normalità speriamo che questo accade c'è una domanda di Vittoria vi ascolto anche se non vi vedo Sì Giuseppe una domanda più che altro una mia curiosità è vero che la musica italiana è bella sì famosa nel mondo ma invece volevo sapere della nostra musica russa classica cosa ne pensi? se hai avuto qualche occasione di sentire la nostra musica classica se ti piace qualche nostro compositore, cantante ma a me personalmente la musica russa piace molto io poi sono innamorato del vostro inno russo che spero di cantare in qualche bella occasione mi piace molto l'inno russo è una bella musica di grande imponenza ma mai sposa come piacciono a me con la voce grande e quindi mi piace pensare che un giorno potrò cantare l'inno russo è una bella soddisfazione sicuramente la musica russa è molto molto bella molto molto bella ho sentito all'Eurovision l'anno scorso dei bravissimi artisti russi delle voci spettacolari con una modernità e una grande innovazione e questo è importante la gente oggi vuole qualcosa di nuovo ecco perché io sto cercando di creare delle sinergie con altri artisti ma soprattutto sto cercando di creare qualcosa che sul mercato ancora come dire non c'è e ci sto lavorando un po' per cercare di portare qualche sorpresa importante al momento giusto giusto grazie abbiamo anche fatto la domanda da parte di Rebecca sì però non vi vedo più io mi dispiace perché mi eravate simbatici non ti preoccupare non ti preoccupare perché nel discorso di linea continua a stare con noi non vorrei che si spegne perché ho un po' il telefono scarico vi ascolto vi ascolto alla prossima domanda ok vado velocissima dunque hai partecipato a moltissimi programmi televisivi conoscendo così anche tanti personaggi che comunque lavorano in quell'ambito qual è il personaggio con il quale sei rimasto più in contatto ma diciamo ce ne sono un bel po' devo dire ce ne sono un bel po' perché mi hanno sentito un bel po' di persone in questi anni sicuramente ripeto Albano è uno di quelli con i quali mi sento ogni tanto anche per farmi gli auguri di Natale e via discorrendo ma il gioio lo stesso Cristiano è stata una persona veramente che ha apprezzato sempre il mio talento fin dai raccomandati è sempre stato che ha sempre fatto il tifo per me anche ai signorini insomma devo dire che sono persone che ogni tanto sento sono vicine a me conoscono le cose che faccio ogni tanto lo faccio sapere devo dire sono molto sono fiduciosi nel mio operato e ci auguriamo tutti veramente che io possa presto salire come dire il livello perché ci sto lavorando veramente tanto ci sta lavorando veramente tanto Giuseppe per chiudere questa bellissima conversazione con te ho raccordi questa domanda dopo il coronavirus quali sono i progetti di Giuseppe Gavi? ma sicuramente saranno quelli di come finirà questa brutta avventura di scendere giù casa e cantare a squarciagola per una giornata intera per tutti i vicoli di Napoli per far sentire che voglio riabbracciare tutti il mio pubblico e non per quindi far sentire la mia vicinanza a cantare come l'ho già detto in tutte le interviste canterò tutta la giornata e mi farò tutti dei bei video che posterò perché la gente deve sapere quanto calore c'è in giro e quanta festa ci aspetta poi diversamente è che ci sono progetti con i quali sto interagendo sicuramente c'era una tournée all'estero non vi nascondo che il mese di marzo io sarei dovuto essere in Cina e tante altre cose vabbè che non stiamo qui a parlare ormai è passato dobbiamo pensare al presente e il presente sicuramente rappresenta una speranza importante nello stare bene non sarà una cosa facile già dico perché da quello che si sente in giro ci vorrà un bel po' di tempo prima di tornare alla normalità quindi credo che sarà tutto un lavoro di grande preparazione per quando poi si inizierà veramente a ritornare sul campo se vogliamo artistico quindi ci aspetta una grande meditazione interiore per migliorare noi stessi e gli altri guarda chiudiamo con l'ultima domanda di Vittoria grazie sì Giuseppe tu che viaggi molto ci puoi dire per un artista è vero che è molto importante come reagisce il pubblico io volevo sapere dove hai trovato il pubblico più accogliente diciamo il pubblico più accogliente sicuramente è quello napoletano quello è il migliore del mondo mi piace dirlo ma non ce l'è per nessuno anche per cui a Napoli sono nati grandi artisti io ho girato il mondo spagnoli, russi, americani devo dire che io piaccio molto agli americani perché ho il piacere di cantare spesso a Capri a Pugliettano e devo dire che lì mi apprezzano moltissimo però il pubblico napoletano c'ha qualcosa che non c'era nessun pubblico nel mondo ecco perché la musica napoletana è quella che a volte predomina noi abbiamo la nostra musica nuova napoletana io sto cercando anche di portare delle canzoni più moderne per entrare in un pubblico anche più giovanile e posso dire che la musica napoletana che abbiamo qui a Napoli veramente non conosce ostacoli e funziona tutto il mondo e poi la melodia italiana anche mi ha gratificato tantissimo perché sono italiano ho detto quindi io canto tanto le canzoni italiane ma soprattutto quelle napoletane e quindi il pubblico per me numero uno resterà sempre Napoli Napoli nel cuore grazie è stato davvero una bellissima conversazione è stato molto bello passare questi minuti con te spero di poterti riavere il nostro ospite quando speriamo di ritornare al più presto alla normalità ti saluto abbracciandoti e augurando a te e alla tua famiglia una buona e serena Pasqua con me un saluto Rebecca ciao mi sta scaricando il cellulare mi saluto perché mi scarica il cellulare giusto in tempo giusto in tempo ciao ciao Rebecca ciao ciao Salvatore ciao mi saluto tutti gli amici grazie signori la puntata anche di oggi finisce qui l'intervista a Giuseppe Gambi è terminata è stata davvero una bellissima puntata ricca di domande ricca di retroscena e di curiosità vi do il benvenuto alla prossima puntata augurandovi a tutti voi una buonissima serata e una buona tattica salve a tutti